primo caso di positività da coronavirus ad altavilla silentina a renderlo noto il primo cittadino antonio marra nella giornata di ieri un nostro concittadino a seguito di attività di screening risultato positivo lo screening è stato fatto a deboli dove lavora assieme alla moglie che però è risultata negativa il nostro concittadino sta bene sottolinea il primo cittadino è asintomatico e sta in isolamento domiciliare presso la propria abitazione partito immediatamente il tracciamento dei contatti da parte dell'asla assieme all'assessore francesco cembalo ci tiene a precisare il sindaco il primo cittadino e l'intera amministrazione sta seguendo attentamente la vicenda invitiamo tutti a non creare allarmismi si raccomanda l'uso della mascherina che ricordiamo deve coprire naso e bocca e invitiamo tutti a rispettare il distanziamento sociale e a non creare assembramenti nella città dei templi invece la situazione non tende ad arrestarsi per quanto riguarda il numero dei positivi un quinto caso accertato dal dipartimento di prevenzione dell'asla di salerno è stato registrato nella città di capaccio pestum nella giornata di ieri si tratta di un giovane ragazzo positivo al covid 19 dopo un tampone analizzato presso il presidio ospedaliero salernitano ruggi come da prassi è stato immediatamente sottoposto ad isolamento obbligatorio con ordinanza sindacale presso la propria abitazione